tutto lo zoo in bagno andò cattachitti deve fare la pippi guardala eccola arrivare con un passo galoppato ma il bagno è già occupato arriva Edi l'elefante con la sua incontinenza gli scappa fortissimo la pippi è un'emergenza ma anche lui deve mettersi in coda riuscirà a tenere la pippi prima che esploda? i pinguini sono tre pitti porta paolo e pippo con sé anche paolo, pippo e pitti devono fare la pippi mettetevi in fila per giove e saturno dopo Edi sarà il vostro turno le scimmie arrivano strillando dobbiamo fare la pippi fate largo filando ma guarda un po' oh che spavento ecco Hugo il serpente scaltro e lento ci sta volendo troppo tempo qui si può vedere quanto è sfacciato il serpente tutta la fila ha saltato fate posto adesso sono io il primo della fila impertinente! gridano gli animali che da sotto al naso il posto gli sfila ma che scompiglio una catti scimmiafante pinguis erpi fila poi boom dalla casetta si sente un rumore Tony il guardiano che esce di malumore tutta la fila prova un terrore proprio grosso per poco non se la sono fatta addosso cosa sono queste urla grida Tony mettetevi subito in fila ciabattoni perché anche allo zoo la fila si rispetta prima va il primo e il secondo aspetta è vietato spingere o fare furbetti sulle rampe e quando sia finito si lavano le zampe per ogni animale Tony distribuisce della carta igienica con le strisce